Quando diciamo housing sociale, di cosa parliamo? Allora, parliamo di un progetto che è rivolto a famiglie che hanno un disagio abitativo, ma non solo, si trovano anche in una difficoltà di natura sociale ed economica. Per cui i progetti di housing sociale nascono per fornire risposte immediate a questo disagio abitativo, ma soprattutto per realizzare progetti di inclusione sociale che aiutano le famiglie a superare definitivamente la condizione di povertà economica e relazionale. Lo possiamo definire un progetto di prova? Sicuramente sono progetti sperimentali che la Fondazione Conisud, che è l'ente che ha finanziato l'attività, il progetto ha voluto proprio per realizzare questo modello di inclusione sociale delle famiglie in condizioni di povertà e quindi assolutamente può essere considerato un progetto sperimentale unico nella nostra regione. Quali sono i risultati di questo progetto? I risultati sono innanzitutto le decine di famiglie che abbiamo ospitato, quindi significa i loro genitori e i figli. L'inclusione sociale che hanno ottenuto attraverso la partecipazione a questo progetto perché tutti quanti loro si sono poi sganciati dall'abitare nella palazzina che vedete alle mie spalle e hanno trovato una loro situazione di autonomia abitativa e anche attraverso il progetto di housing sociale di inserimento lavorativo perché noi offrivamo questa condizione. Quindi non un progetto di tipo assistenziale ma un progetto che accompagnava le persone ad utilizzare le proprie risorse, le proprie potenzialità per includersi nuovamente nelle realtà sociali di provenienza. Quindi è un modello che noi oggi vogliamo restituire. Il Comune di Casali del Manco ha aderito al progetto ARCA che è portato avanti, finanziato da Fondazione Conel Sud e portato avanti dall'Associazione Il Delfino. Il primo progetto è un progetto ambizioso di housing sociale che ha come obiettivo quello non solo di trovare soluzione al problema del disagio abitativo ma di far sì che vi sia appunto l'inserimento nella società e non solo lavorativo di quelli che sono nuclei familiari fragili e vulnerabili. Il Comune di Casali del Manco ha replicato il progetto ARCA. di fatti ha un primo progetto di housing sociale in quanto grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo intercettato un finanziamento da 670 mila euro che ci sta dando la possibilità di riqualificare un immobile comunale. Lì realizzeremo due alloggi e soprattutto una sorta di polifunzionale. Dobbiamo in qualche modo dire che nella storia del Delfino la novità è sempre benvenuta. Fra le esperienze che abbiamo sempre messo in atto per rispondere ai bisogni della gente ci mancava anche l'esperienza di un'accoglienza ferma e viva di coloro che vivevano difficoltà abitative. Il social housing di Castiglione e Cosentino ha voluto essere questo fiore all'occhiello nonché l'ultimo dei figli, l'ultimo figlio del Delfino perché si sperimentasse la solidarietà in un modo straordinario. E come sacerdote, anche come parroco, l'ho sperimentato con la Caritas di quattro parrocchie della Diogesi di San Marco Scalea che hanno voluto offrire a delle famiglie ucraine la possibilità di vivere una vita dignitosa.